ciao a tutti benvenuti sul mio canale youtube vediamo insieme questa ricetta è una ricetta che ho preso dal gruppo nuvola un amore di pasta madre un pan bauletto con olio e latte seguitemi allora mi sono preparata tutti gli ingredienti la pasta madre naturalmente era rinfrescata ho tolto la parte che mi serviva e fatta lievitare gli ingredienti vanno messi tutti in planetaria parte il latte che ne metto poco più della metà e poi lo metto piano piano fino alla fine quindi ho messo la farina l'olio lo zucchero spezzetto la pasta madre così a pezzettini ok e metto il latte il sale lo metto dopo che ho fatto che ho fatto amalgamare un pochino bene il lievito lo metto dopo scusatemi la voce metto il miele ecco qua scusate lo stacco un miele è un millefiori casereccio di un amico si è un pochino indurito un segno buono però metto la foglia e faccio amalgamare bene lasciando da parte il sale e un po di latte poco meno della metà di latte giro ok qui naturalmente ho fatto qualche taglio una volta amalgamato comincio a mettere il resto del latte piano piano all'inizio giro piano poi aumentiamo dopo la velocità bene continuo il latte lo mettiamo a tempo lo teniamo a temperatura ambiente a questo punto metto il sale posso mettere il sale e continuo così con il latte continuo poi alla fine aumento la velocità così goccia a goccia comunque la dose perfetta mi ricordo che sto eseguendo una ricetta di rosa di fonso del gruppo nuvola un amore di pasta madre ecco qua continua a girare per all'incirca dieci minuti è un pane praticamente all'olio fa un bauletto come avete visto senza burro senza uova fa un bauletto all'olio e c'è un po di zucchero che gli dà quel sapore un po dolce che hanno anche tramezzini quindi molto adatto anche per fare i tramezzini adesso stacco l'impasto e lo metto in un recipiente lo copro e lo lascio lievitare tre ore a temperatura ambiente così lo lascio così per tre bene è passato il tempo eccolo qua vedete non è cresciuto tantissimo si è adagiato e allargato un pochino calcolate che sta facendo molto freddo allora lo giro e adesso va pirlato io le pieghe non sono previste nella ricetta ma io lo piego appena così senza toccarlo tanto e poi lo pirlo ho preparato già il recipiente adesso vi metto le mie misure del mio recipiente molto leggero è un alluminio molto leggero quindi vedete sto pirlando e lo lascio riposare un'ora coperto e dopo un'ora eccolo qua scusate mi sposto sulla tavola allora metto il burro dentro il contenitore per sicurezza potrei mettere anche un po di carta forno soltanto sotto ai lati magari no perché se non viene non viene bene bene la forma quindi sotto magari se volete mettetela soltanto sotto però questo mio contenitore stacca bene e quindi lo metto senza allora allargo così piano piano e poi mi aiuto con il mattarello però senza non spingo molto è quindi lo allargo presso a poco della lunghezza del contenitore ok ecco qua senza abbassarlo tantissimo adesso lo arrotolo così in questo modo qui ho accelerato un pochino quindi lo attacco anche vedete per farlo aderire bene ecco qua e lo aggiusto aggiusto la lunghezza lo chiudo bene ecco misura del mio contenitore poi vi scrivo sopra le misure adesso lo copro e questo 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 impasto lo sto facendo di sera sono arrivata la sera lo lascio a temperatura ambiente e anche perché freddino fino alla mattina quindi all'incirca 12 ore diciamo dalle 9 alle 12 però poi visti i risultati il risultato finale che poi vedrete io l'avrei lasciato anche 14 ore bene eccolo qua vedete come lievitato bene ecco mi preparo il forno lo porto a temperatura io l'ho messo a 180 e poi ho abbassato a 175 statico la ricetta parla di 170 naturalmente vi regolate con i vostri forni eccolo qua vedete come si sta gonfiando gonfiando bene sta crescendo molto bene e io l'ho ottenuto più di mezz'ora l'ho tenuto quasi 40 minuti perché mi piace un pochino più colorito però se lo volete più chiaro 30 minuti possono bastare ok adesso lo tiro lo faccio raffreddare un pochino lo tiro fuori dal contenitore bene l'ho tirato fuori e l'ho appoggiato su una gratella per farlo raffreddare prima di tagliarlo dovrebbe essere freddo adesso vi faccio vedere la morbidezza vedete si si è colorito anche troppo però a me proprio chiaro chiaro non piace quindi l'ho fatto cuocere un pochino di più dei 30 minuti di cui parla la ricetta e l'ho tagliato che era ancora tiepido e questo è uno sbaglio perché come vedete si vede che è tagliato caldo quindi fatelo raffreddare diciamo che io forse se lo avevo tenuto qualche ora di più sarebbe lievitato meglio quindi qualche piccolo alveolo più grande sarebbe venuto però devo dire che è buonissimo molto è morbidissimo molto adatto anche per tramezzini oppure se volete potete tostarlo quindi ringrazio rosa per la ricetta un ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao